Libor, è un peccato non esserci domenica in questo rush finale, sei partite in venti giorni e l'obiettivo che si chiama Champions? Certo, penso che tutti, per noi è un sogno, un paradiso arrivare in Champions, per me personalmente dispiace che non ci sono opere per questa partita, però ci credo, ci va allo stadio, tengo ragazzi perché è molto importante questa domenica, tutte le sue partite sono importanti e noi dobbiamo credere e ci crediamo che possiamo arrivare al nostro obiettivo. Gli assetti sono tantissimi, tu e Mauri svalificati, tanti infortunati, torna però Hernanes che è stato qui con noi stamattina, può essere lui l'uomo decisivo in queste ultime partite? Penso che adesso parlare di...